400 milioni in sei anni, 900 strutture messe in sicurezza, all'opera 200 progettisti. Questi numeri della Regione Sardegna negli ultimi sei anni per mettere in sicurezza l'edilizia scolastica isolana che collocano l'isola al primo posto nella classifica italiana. Nel triennio 2015-2017 sono stati finanziati 26 progetti di istituti innovativi, diventando modello nazionale per l'edilizia scolastica, con un investimento di 90 milioni di euro. 70 milioni sono già nella disponibilità dei comuni che dovranno allestire l'intervento. Un dato particolarmente significativo se si tiene conto del segno meno del prodotto interno lordo e dove si assiste a una crisi demografica piuttosto incisiva, soprattutto nelle zone interne. L'amministrazione di Pigliar, utilizzando il programma Iscola, ha messo in campo 170 milioni per la messa in sicurezza di oltre 900 istituti frequentati da 160 mila studenti. Impegnativo anche l'investimento che la regione ha fatto per la lotta alla dispersione scolastica, mettendo a disposizione 87 milioni. Nel 2015 i dati sull'abbandono scolastico erano alti, il 23,5% nel 2017 sono scesi a 18,1%. Complessivamente l'impegno per istruzione in Sardegna, nel largo di tre anni, è stato pari a 377 milioni di euro. Infine, per 24 istituti del nuovo millennio inseriti nell'asse comunitario, sono stati impiegati 200 progettisti. Grazie.